Si è chiusa positivamente la conferenza di servizi per il progetto di messa in sicurezza ed allargamento parziale della SP360, oggetto di una frana che ha costretto la provincia di Salerno alla chiusura ormai da inizio febbraio, rendendo difficili i collegamenti da e per la frazione di Sant'Anna di Cava dei Tirreni. Nonostante l'assenza della soprintendenza, che avrebbe però già preannunciato il parere favorevole, la prima fase si è conclusa. Questo consentirà di realizzare il progetto esecutivo. Contemporaneamente occorrerà passare in consiglio provinciale per inserire la spesa nel piano delle opere pubbliche ed ottenere finanziamenti regionali. Le somme, comunque, secondo il responsabile del settore viabilità e trasporti della provincia ranesi, sarebbero già nelle disponibilità dell'ente, che è stato supportato anche dal comune di Cava, che ha anticipato le spese per i sondaggi preliminari. Circa 250 mila euro in ogni caso l'investimento complessivo richiesto per mettere in sicurezza il tratto ed allargarlo di due metri. L'intenzione è quella di bandire la gara entro un mese ed avviare i lavori per agosto, per riaprire la strada a fine ottobre. Tempi, comunque, medio-lunghi. Per questo motivo, dopo la conferenza di servizi, il comune di Cava ha avanzato due proposte alternative. Una sostitutiva del progetto provinciale, senza allargamento e con spese minori, e l'altro, invece, che potrebbe essere realizzato in una ventina di giorni per assicurare l'apertura temporanea su una sola corsia. Con 16 mila euro, infatti, si potrebbero installare lamine in acciaio per delimitare la zona di crollo, consentendo la circolazione a senso unico alternato con semafori e vigilanza, con interdizione al traffico pesante ed eventuali chiusure in caso di maltempo. Le lamine, tra l'altro, secondo il comune, potrebbero servire anche da casseformi e consentire ai lavori successivi in maggiore sicurezza. Nell'urgenza di dare almeno la possibilità di accedere parzialmente alla comunità e quindi riaprire metà strada, abbiamo proposto una soluzione alternativa sia integralmente sostitutiva del progetto presentato dalla provincia, sia quella alla quale io tengo di più, in verità, dell'apertura attraverso un bypass da poter realizzare rapidamente di metà corsia in attesa poi della realizzazione definitiva e completa del progetto presentato dalla provincia. L'amministrazione comunale di Cava, già in una prima fase, ha finanziato, anticipando le somme e le indagini geologiche e diagnostiche, proprio perché, come tutti i cittadini sanno, ci troviamo con delle province veramente ridotte all'osso. Questa legge del Rio, e lo devo dire con dispiacere, trattandosi peraltro di un ministro del Partito Democratico, nel quale mi riconosco, è stato un disastro, bisogna guardare in faccia la realtà e adesso bisogna rimediare.